Nella mattinata di martedì 18 maggio i carabinieri del comando Compagnia di Ivrea hanno arrestato tre italiani ritenuti responsabili di concorso intentata estorsione aggravata dall'uso di arma da fuoco e lesioni personali gravi. L'indagine condotta dalla stazione dei carabinieri di Quornier tra novembre 2020 e febbraio 2021 ha preso il via della denuncia presentata da un cittadino del luogo vittima di violenze e minacce fizzanizzate e distorce di denaro per un valore di 60-70 mila euro. Le investigazioni hanno consentito di risalire ai tre che volevano con violenze e gravi minacce costringere la vittima a saldare un presunto debito contratto con loro. In particolare tre uomini hanno invitato la vittima ad un incontro in un luogo isolato a Quornier e una volta sul posto l'hanno prima malmenato procurando rivali lesioni e fratture al volto e subito dopo hanno esploso dei colpi di arma da fuoco, facendoli chiaramente intendere che se non avesse ottemperato la richiesta avrebbero rivolto gli spari contro di lui. Per costringerla a pagare hanno anche minacciato di richiedere denaro i suoi familiari. Sono in corso per acquisizione anche nei confronti di soggetti vicini al gruppo criminale con la finalità di ricercare droga e armi. Grazie per la visione!